Autentica icona dello sport. Vincenzo Marinelli è deceduto all'età di 88 anni dopo una grave malattia. È stata una delle figure più importanti della dirigenza sportiva in Italia, nel calcio e anche nella palla nuoto. Era il suocero della campione Manelle Stiarte, presidente della Pescara, promozione in B nel 1982-83. Per oltre 30 anni, capo delegazione e accompagnatore della Nazionale Under 21, l'ultimo trionfo nel 2004 con Claudio Gentile Citi. Ha vinto decine di titoli internazionali. Negli ultimi anni, presidente onorario del club Biancazzurro. Un amico di tutti, sempre positivo, persona di grandissima generosità. Sul nostro sito lo ricorda così la presidente della FIGC, Gabriele Gravina, legatissimo a Vincenzo Marinelli. Era per me un fratello maggiore. Sapevo già da qualche tempo del suo stato di salute. Dolore enorme. Abbiamo condiviso un pezzo importante della nostra vita con la Nazionale Under 21, gli europei 2004, le Olimpiadi di Atene. Tante gioie vissute insieme, ma anche momenti meno felici dal punto di vista sportivo. Una grande perdita. Il presidente della Pescara, Daniele Sebastiani. Per me Vincenzo era un fratello maggiore, una persona straordinaria. Era il nostro presidente onorario. Questione di riconoscenza e rispetto per quello che ha dato lo sport e al calcio della nostra città. Mi diceva sempre, se non c'eri tu non sarei mai tornato. Il Pescara ha la sua vita, malgrado le grandissime sofferenze degli ultimi tempi, aveva uno spirito incredibilmente positivo. Soprattutto una grande dignità. Una decina di giorni fa, quando è stato dimesso dall'ospedale, mi disse «Dobbiamo organizzare un viaggio tutti insieme. Una forza d'animo pazzesca». Bruno Nobili, ex calciatore del Pescara dal 1974 al 1982, è stato il punto di riferimento del Pescara per tantissimi anni. Nell'estate del 1974 fu proprio lui a intavolare e a definire la trattativa con Arrica, artefice del Miracolo Cagliari, club proprietario del mio cartellino. Negli anni è nato un rapporto di grande stima, prima amicizia poi. Ricordo che nel 1981-82, stagione travagliata con retrocessione in C, gli consigliai da capitano di correre subito ai ripari. Eravamo all'inizio della stagione. Vincenzo mi rispose «Tu pensa a fare il giocatore, il presidente sono io». Mi ha sempre colpito la sua autorevolezza. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente.